Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Giulia Stabile ha fatto il ritorno ufficiale in Italia, nello studio di Amici 2024, dopo mesi di collegamenti da Londra, ma i suoi fan non hanno mai smesso di seguirla nella sua carriera che continua ad andare a gonfie vele. La ballerina professionista, ormai, è un volto fisso non solo del talent di Canale 5 ma anche di Tussi che vale e, come noto, ha vissuto per alcuni mesi nella capitale inglese per motivi di formazione, in modo da perfezionarsi ulteriormente nella danza, sua passione e suo lavoro. Eppure, dopo il suo ritorno, i social si sono scatenati per una notizia che ha lasciato a bocca aperta. Le varie piattaforme sono state sommerse da moltissimi commenti per la gravidanza della Stabile, tanto che i fan sono andati in delirio, desiderosi di conoscere tutto sulla gestazione della ballerina. In realtà, c'è stato un equivoco di omonimia e ad essere in dolce attesa, come noto, è Giulia Pausselli, peraltro anche lei ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. Dunque, i fan dovranno posticipare la loro gioia, a causa del malinteso. Anche perché Giulia Stabile è ufficialmente singola e proprio negli scorsi giorni ha rilasciato delle parole dolcissime per il suo storico ex San Giovanni, con cui ha vissuto un'intensa storia d'amore, purtroppo naufragata ma mai dire mai. Chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma e perché no, una gestazione.